I primi due partiti che questa mattina, presso l'ufficio elettorale regionale della Basilicata, nella Corte di Appello di Potenza, hanno presentato le liste per la corsa alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, sono stati Italia Sovrane Popolare e Partito Comunista Italiano. I primi vedranno Michele Signia, candidato al Collegio Uninominale per il Senato, e Giuseppe Di Bello, capolista al Proporzionale, sempre al Senato, seguito da Elvira De Paola. Noi ce l'abbiamo fatta, Italia Sovrane Popolare è riuscita oggi a presentare i suoi candidati nelle liste del Senato e nelle liste della Camera. Diamo l'opportunità ai cittadini di votare un bel programma politico, un programma politico che metterà al centro il popolo e la sovranità della nostra nazione dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista economico. Il Partito Comunista Italiano ha presentato invece per l'Uninominale alla Camera dei Deputati Giuseppe Amodeo, mentre per l'Uninominale al Senato il candidato Antonio Pallottino. Noi vogliamo che lo Stato venga ad essere restituito al popolo. Oggi lo Stato non è del popolo, oggi lo Stato è delle multinazionali. Oggi lo Stato è nelle mani di parlamentari che non possono che essere dei burattini manorati da burattinai.